Questa sera vi salvate perché adesso il piatto che verrà è un piatto che c'è sempre stato, ma negli anni 80 ha avuto un altro piatto lupo, poteva essere quello di Albertone, voglio dire, un'amatriciana è per sempre, is forever, come i diamanti, come i daimons di 007. La progazione della monarchia ha svuotato di sei i suoi titoli nobiliari, ma la novità delle proteine sull'inesi ha citato ancora il suo porco fascino. Il maierino di Veronese suscita unanimi consensi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.